Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa oggi 25 settembre del 2019. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto Conte, il presidente del Consiglio, è in America, tutti quanti lo riprendono con una foto mentre mangia un hamburger, insomma un Conte diverso. Ieri addirittura c'era una maglietta, sembrava proprio un foggiano che con tutto il rispetto, essendo io di quelle parti, avete presente quelli che si mettono la tuta per andare in aereo? Giampaolo, grandissimo Giampaolo Serino, ci sta guardando anche Marco, ma Giampaolo Serino dobbiamo seguirlo tutti, sta scrivendo dei pezzi sul sito nicolaporro.it, è da svenimento le sue recensioni, mettiamola così, nei confronti dei mostri della letteratura, ma letti da Serino. Ma comunque, sembra un foggiano come me, perché sapete quelli che si mettono la tuta, il marsupio, e poi la maglietta, perché sai stanno viaggiando? E il problema è che lui viaggia con delle aeree di Stato in cui sta molto più comodo di come stiamo noi comuni mortali quando andiamo a New York. Ma comunque, chiusa la parentesi della cafonaggine, diciamo, nostra quando viaggiamo, voglio arrivare al punto. Conte dice, mi sto convincendo che il problema centrale del nostro sistema economico sia l'evasione fiscale. Porca puttana, oh! Ci ha messo due anni ed è riuscito a convincersi che il problema fondamentale del nostro sistema economico sia l'evasione fiscale. Prima questione. L'evasione fiscale può essere certamente un problema, e lo è. Poi, intanto, diciamo, non è proprio una di quelle cose originali che abbiamo trovato, cioè, cervellandosi. Ci sono 50-60 ministri di sinistra che ci hanno raccontato questa cosa, e adesso forse se ne è appropriato anche Conte. Ma poi c'è un'altra questione fondamentale, che Conte forse, diciamo, da giurista sofisticato al piano come è non accolto. E l'evasione fiscale, semmai, è un problema di giustizia, perché se io pago le tasse e quella accanto a me non le paga, è un problema. Ma il problema dell'economia è, purtroppo, non lo possiamo ridurre all'evasione fiscale. Anzi, c'è qualche teorico che dice, grazie all'evasione fiscale, l'evasione di sopravvivenza, diceva qualcuno di sinistra, i più deboli e alcuni possono continuare a competere perché non pagano le imposte. Io non voglio dire che questo sia giusto, però iniziamo a dire le cose come stanno. Il problema dell'evasione fiscale non c'entra un cacchio con la crescita economica di questo paese. Sono solo stronzate. Quello che c'entra con la crescita economica di questo paese sono leggi, che fa anche Conte, stupidissime, fisco elevatissimo. E vi segnalo una cosa, che da quando dicono di fare leggi contro l'evasione fiscale, i recuperi di evasione fiscale non sono mai andati a ridurre le imposte. Chiaro? Toc, toc, toc. Aumento i controlli. Recupero l'evasione fiscale come hanno fatto con la fattura elettronica. Quanto restituisco di riduzione fiscale? Zero! Questo governo, che è erede di quello passato, ha aumentato il peso del fisco. Tra l'altro bastava girare pagina e Furbini, il giornalista, quello che negava le questioni perché si sentiva a disagio di dire che l'austerity aveva ucciso più persone in Grecia, indirettamente, ovviamente. Beh, insomma, sul Corriere della Sera oggi c'è scritto che da qua al 2021 la spesa pubblica aumenterà di 49 miliardi di euro. Il che vuol dire, a parità ovviamente, senza aumentare la spesa pubblica, senza fare nuove leggi, il che vuol dire che il problema di questo paese non è l'evasione fiscale. Non è l'evasione fiscale. Sapete qual è il problema di questo paese? E che abbiamo una spesa pubblica che continua ad aumentare ogni giorno e spendiamo miliardi, questa bestia statale spende miliardi su miliardi su miliardi per dei servizi di merda. Oggi c'è straordinario il pezzo sul giornale che cosa si deve fare a Roma per avere la carta d'identità per cui si deve andare a chiedere un certificato, poi si deve chiedere tutto elettronico ma deve andare a fare le code per avere il certificato. Lo spiega bene Giuseppe Marino oggi, ma tutti i romani sanno cosa vuol dire la spesa pubblica per la pubblica amministrazione di Roma che fa schifo, che in un paese normale tu vedi perché a Milano io un certificato ottengo un minuto e a Roma devo andare a prendere il bigliettino per poi avere l'appuntamento per poi avere il certificato elettronico. Ecco, la spesa pubblica è il problema di questo paese, non l'evasione fiscale. Conte si occupasse della merda della spesa pubblica, non di quello che fanno i privati, che in realtà poi il piano suo, sapete quale sarebbe? Ve la dico molto semplice perché c'è scritto sul Corriere della Sera, anzi sul messaggero, lui che cosa dice? Le detrazioni fiscali, lui dice bonus, incentivi, ha chiusa la moneta elettronica, questo è quello che scrivono i giornali. Falso, falso, non c'è nessun bonus, nessun incentivo a quello che scrivono oggi i giornali. Sapete che cosa c'è? C'è che voi, il medico, il dentista, la scuola, l'asilo nido, cioè tutte quelle spese che voi fate potete detrarvi al 19%, sia chiaro, non è che se andate dal medico spendete 100%, potete detrarvi il 19% di quel 100%, no? Beh, queste detrazioni le potete fare, continuare a fare, soltanto se le pagherete con la carta di credito e con i conti correnti. Cosa, secondo me, sacrosanta, io penso che tutti quelli li debbano pagare con la carta di credito, ma il punto non è questo, il punto è che se tu già avevi questa deduzione, continui ad averla con la carta di credito, non ti hanno fatto nessun regalo, continui ad avere la detrazione che avevi ieri. La sostanza è che quelli che non pagheranno con la carta di credito non avranno la detrazione. Siccome molti in Italia non hanno la carta di credito, non hanno un conto corrente, sono i più deboli, i più poveri, quelli che avrebbero più bisogno di queste detrazioni, ovviamente verranno fatti fuori gli evasori, sicuramente, ma verranno fatte fuori anche le detrazioni per i più poveri. Continuate così. Piano di Conte, che è una sorta di telenovela italiana, oggi vi segnalo sul Sole 24 Ore, che ogni tanto si ricorda di essere il giornale della Confindustria, così come la LUIS e la Università della Confindustria, e entrambi hanno soltanto un obiettivo, lui, se Confindustria e Sole 24 Ore, di attaccare Salvini, si dimenticano oggi, anzi si ricordano oggi, si dimenticano di essere quella roba là, e si ricordano di essere il giornale delle imprese. E Jacopo Giliberto, che io seguo sempre con una certa attenzione, ci racconta che cosa sta succedendo nel sud del Marrionio, nel sud della Puglia. Lì Edison, Elpa e Total avevano trovato un giacimento di metano. Ebbene, hanno chiesto allo Stato italiano di poterlo perforare, trivellare, quella parola orrenda che si chiama trivellazioni, per tirar fuori il metano. Noi abbiamo bisogno del metano per riscaldare l'aria condizionata, per raffreddare l'aria condizionata di questi radical chic che a Capalbio, a Milano e a Roma, girano con Greta, ma che lo fanno con l'aria condizionata, con il televisore 4K, con il cazzo di stereo in tutte le stanze, con la domotica, tutte le robe per cui serve il metano, per cui serve bruciare metano, per creare energia elettrica con cui fare queste robe qui. Beh, insomma, questo metano è lì sul fondo del Marrionio, ci spiega il Sole 24 Ore. Questa Total, Edison, chiedono l'autorizzazione di trivellare per vedere se c'è il metano e per poterlo tirar fuori e farlo arrivare alle centrali italiane. Beh, ve la faccio breve. Conte 1 e Conte 2, il primo e il secondo conte, bloccano le trivellazioni, la cosiddetta moratoria. Questo che cosa comporta? Che Edison e gli altri vanno dalla Grecia e gli dicono, possiamo trivellare per vedere? La Grecia dice, ma certo che lo potete fare. E quindi noi avremo le trivellazioni fatte dalla Grecia, con una cannuccia dalla Grecia tireranno fuori il metano che avremmo potuto tirar fuori anche noi dalla Puglia, lo fanno arrivare con imprese greche, imprenditori greci, dipendenti greci in Grecia e dalla Grecia lo riporteranno in Italia con la TAP che grazie al gelo abbiamo fatto in Puglia. Complimenti a quei coglioni, coglioni di ambientalisti che siamo tutti noi, che stiamo lì a manifestare il venerdì con Fioramonti non andando a scuola, non capendo che senza il metano non c'è l'energia elettrica e senza le trivellazioni non c'è il metano e senza il metano e le trivellazioni noi dovremo spendere molto di più nella bolletta elettrica come avviene questo mese per gas e luce. Sapete perché spendiamo di più in questo mese? Non perché siamo cattivi, perché questo mese sono aumentati. Ah, il genio. È arrivato il genio. È arrivato il genio. Quattro pannelli solari? No, eh. Ecco, è arrivato il genio. È arrivato anche nella zuppa di porro. C'è il genio. Mettiamola così. Il genio. Lui sostiene che abbiamo risolto il problema con i quattro pannelli solari. Noi paghiamo su ogni bolletta, lo vedrete nel mio libro che esce il 24 ottobre del 2019, paghiamo in ogni bolletta 115 euro di oneri di sistema sul 500 di bolletta media per questa minchiata dell'eolico e il fotovoltaico che sulla carta avrebbero dovuto renderci indipendenti. Nella pratica non ce l'hanno reso indipendenti da niente perché c'è quel piccolo problema che non si riesce ad immagazzinare né l'eolico né il fotovoltaico. E quindi, quando voi volete vedere la televisioncina o volete avere la stufetta elettrica la notte e non c'è fotovoltaico che tenga, ma vagliela a spiegare. E comunque, su questo pezzo del sole 24 ore vorrei che tutti quanti voi foste informati. Travaglio, invece, se la prende con un'altra trivella, quella che si chiama Federica, che ieri vi avevo descritto e che aveva aperto il tunnel di 9 km della TAV Torino-Lione. Ah, devi chiamarla il TAV e la TAV. Io la chiamo la TAV. Mi piace chiamarla la TAV. Non la voglio chiamare il TAV. Non voglio dire Conte 2. Non voglio dire il Bisconte o il Conte Bis. E non voglio che i giornalisti mi spieghino come Travaglio, devi parlare così, devi dire così. La chiamo come Cacchio, mi piace. Chiamo la TAV. Oggi dice chiamarla il TAV. Solo i giornalisti continuano... Fa le battaglie linguistiche. Detto questo, detto questo, il punto fondamentale è che Travaglio si arrabbia con la trivella, perché noi ieri abbiamo esaltato questa trivella e lui dice avete detto che ha fatto il 18% della Torino-Lione e in realtà ha fatto soltanto il 9%. Ok, bravo Travaglio. Hai detto la tua. Se volete leggetevela sul Fatto Quotidiano. Boris Johnson, io leggo solo sul premier inglese il Daily Mail, lo stesso che vi ricorderete. Se avete visto la zuppa di porro, cioè ha spiegato del fallimento della Thomas Cook cinque giorni in anticipo, e l'unica cosa che mi diverte è il Daily Mail, perché è un giornale popolare che non si prende sul serio, che fa vedere il cibo, i grassoni, le gnocche in prima pagina, su Boris Johnson mi dice Boris Johnson è scoppiato. Però chi guida la Gran Bretagna? Insomma, in due righe, il titolo più bello di tutti i commenti, di tutto quello che oggi potrete leggere sui giornali, è esattamente sintetizzato dal giornale, considerato carta a straccia, che io però adoro. I giudici dicono infatti che è stato sbagliato chiudere il Parlamento, la richiesta di chiudere il Parlamento che Boris Johnson pretendeva. Su Greta, ragazzi, a parte leggere il pezzo stupendo che oggi fa Max del Papa, proprio sul sito nicolaporro.it, quando l'ecologia viene lasciata ad un adolescente, quando l'ego adolescenziale diventa politica, questo è il titolo, quando l'ego adolescenziale diventa politica, qua c'è qualcuno che mi chiama, non mi chiamate a quest'ora sul telefono, sto facendo la zuppa, e la tassa Greta, la tassa Greta, oggi la cucina Sallusti, in cui dice una cosa semplicemente, cara Greta, non ti abbiamo rubato niente sui tuoi sogni, probabilmente, se ti rendi conto quanto siamo andati avanti, quello che dicevo ieri io, negli ultimi 30-40 anni, beh, insomma, staresti un po' più tranquillo. Campi, sul messaggero, il populismo ambientalista, nuova retorica, antisistema. Poi, sulle tassa delle merendine, sapete, questa ipotesi della tassa delle merendine, con cui continuano tutto, Françoise, buongiorno, Laura, ciao, Laura è già andata a leggersi, ovviamente, Max del Papa, ma leggetevelo tutto sul sito, ma oggi, il pezzo, che oggi mi ha convinto, e non riesco a capire, perché non ci fosse arrivato, è chiarissimo, Fioramonti, quello della tassa sulle merendine, quello che vuole assumere i precari, quello che vuole che ci sia una giustificazione del Ministero della Pubblica Istituzione per tutti gli studenti che manifestano venerdì e non vanno a scuola, beh, insomma, Fioramonti è diventato sicuramente il nuovo Toninelli, ci sarà da divertire, dobbiamo guardarlo con attenzione, oggi ce lo spiega il giornale, in effetti, il gaffer di questo governo, c'è sempre bisogno di un gaffer, come lo sono io, peraltro, beh, in questo governo lo è sicuramente Fioramonti. Ultima questione riguarda, ne parlano tutti quanti i giornali, Di Maio, messo sotto, ingrati, dei loro senatori. 70 senatori su 103, che è la pattuglia dei senatori del Movimento 5 Stelle, fanno un documento in cui più o meno criticano il capo politico, quello che chiedono il Gianrusso, persino Toninelli, la Grillo, la Lezzi, cioè tutti quelli che non hanno beccato più la poltrona, è che Di Maio non sia l'unico a comandare, ma che ci sia un direttorio a 10. Questi sono nati per aprire il Parlamento con una scatola di tonno, diventeranno un partito di democristiani che corregge un pentapartito all'interno del governo. Fioramonti bene, un Toninelli ci vuole, dice Terry, sono d'accordo con lei, Linda, Nicola, me ne sono mangiati tre alla faccia loro e vado a mangiarmi una merendina anch'io, anche se con la panza bisogna stare attenti. Chiaro? Un saluto a tutti quanti voi e vi do appuntamento come sempre domani. Ciao! Andiamo a chiudere qua.